Qui Radio Altavilla, l'informazione prima di tutto. Un programma curato e condotto da Giovanni Battista Paladino. Anche se tu non ci credi. A via Consulare che tra l'altro è la via che costeggia la battiglia tra il Lido Sporting e Torre Normanna per quanto riguarda la zona di Altavilla Milicia. I nostri radioascoltatori ci segnalavano la presenza di diverse pioli di ferro che fanno parte dell'ingresso di molte villette. E naturalmente per noi, messe abusivamente dai proprietari delle villette in mezzo alla strada per non far posteggiare altre persone con le macchine. Per questo ci siamo recati da quello che si evince dalle immagini. Possiamo notare che effettivamente di questi pioli di ferro ce ne sono veramente tanti. Ma di questo ne parleremo sicuramente in questi giorni con i responsabili del comune di Altavilla Milicia. Per concludere vi ricordiamo la nostra email radioaltavilla.neomedia.it per segnalarci qualsiasi cosa volete e noi sicuramente e tempestivamente faremo un servizio su quello che voi avete in mente di dirci. Naturalmente Radio Altavilla potete ascoltarla sul sito web www.radioaltavilla.it e da Giovanni Battista Palladino anche quest'oggi è veramente tutto. Ci risentiamo alla prossima. Grazie a tutti.